Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Parliamo dei primi tre episodi della sesta stagione di The Flash del network CW. Ne parliamo perché si avvicina il mega crossover crisi sulle terre infinite di cui ho fatto un video che vi invito ad andare a vedere, magari ve lo metto qua sopra così ci cliccate. Prima di cominciare però vi invito ad iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella delle notifiche, comunque i video escono ogni martedì e venerdì, di mettere un bel mi piace al video e di commentare. Se commentate probabilmente vi saluterò nel prossimo video, se non nel prossimo, in uno dei prossimi miei video, sempre alla fine. E se commentate con l'hashtag Lucca Comics, magari quando farò il video di Lucca a Lucca, vi saluterò lì e magari vi dirò anche dove mi trovo, così potrete venire a entrare nel video e farci tutti un selfie all together. Allora, sesta stagione di Flash. Finalmente Flash ha cambiato il costume che nella quinta stagione hanno cercato di rendere il più fedele possibile al fumetto, quindi eliminando il coprimento, non so come definirlo, del caschetto, perché nel fumetto Flash ha il mento libero, però così facendo con la testa dell'attore Grant Gustin e quell'elmetto come lo avevano fatto, gli usciva una testa enorme e un mento altrettanto enorme, tant'è che nella quinta stagione l'uomo allungabile è apparso poco, perché già lui sembrava l'uomo allungabile. Vabbè, cazzate a parte. Hanno corretto un attimino il tiro risistemando il costume e questo credo che sia, a parer mio, il costume più bello che abbia mai avuto insieme a quello della quarta stagione. La differenza è che quello della quarta stagione era ancora in pelle, ok? Mentre questo è in un tessutino che però, per la nostra intelligenza di fan, di Affictionados, potremmo definire un costume fatto con delle nanotecnologie, con un tessuto particolare che ha inventato Sisko Ramon's. Mentre quello della quarta stagione era ancora il classico completo in pelle, che era quello ispirato dalla prima stagione, quello ispirato alle tute dei pompieri. Gnifugo, quindi anche resistente all'attrito, eccetera, eccetera. Ovviamente nella vita reale vestirsi di pelle per correre, a meno che non si stia correndo con una moto, è davvero poco comodo. E quindi per questo motivo io preferisco questo costume. Ma basta parlare di moda e di outfit. Parliamo della serie tv in sé. Allora, è predominante il personaggio di Killer Frost, che in questa stagione sembra prevalere totalmente a Caitlyn, Caitlyn Snow, non per qualche, diciamo, atto di sopraffazione, ma proprio perché Caitlyn Snow decide di far vivere Killer Frost. Quindi molto probabilmente vedremo l'attrice nei panni di Killer Frost per tutta la durata della sesta stagione. Vibe, come sappiamo, Sisko Ramon, Vibe, non ha più i poteri di Vibe, quindi è tornato a essere il Sisko Ramon delle prime due stagioni. Quindi vedremo come si svilupperanno queste cose. Molto probabilmente l'hanno fatto per avere un po' meno metaumani da gestire sul piatto, perché c'è tanta carne al fuoco di nuovo, di roba nuova. C'è Ralph Dibny che sembra di nuovo essere tornato tra i protagonisti della serie, perché appunto nella quinta stagione era stato un pochino messo da parte. Harrison Wells per due puntate non lo vediamo, e meno male, nel senso che sarebbe un po' banale se a ogni prima puntata di ogni stagione appaia un nuovo Harrison Wells. Lo vediamo pochissimo nel terzo episodio della sesta stagione, il che è una scelta molto accurata da parte mia, perché appunto hanno lasciato la possibilità di aprire altro, altri argomenti. Tra questi argomenti c'è già una strizzatina d'occhio a crisi sulle terre infinite, cosa che invece in Batwoman per esempio non c'è, perché è un telefilm molto più da strada, molto meno fantascientifico, e quindi ci sta che ne sia totalmente inconsapevole Batwoman di questa cosa. Mentre Flash è il primo a imbattersi con questo, perché tenta di andare... Allora, si sa già che Flash svanirà in futuro, in una crisi. Quindi Flash dice, sai che c'è? Vado nel futuro e cerco di capire cos'è successo. Va nel futuro ma non ci riesce, perché? Perché c'è già nel futuro un muro di antimateria. Quindi come avevo pensato nel mio video Crisi sulle terre infinite, che vi linko qua da qualche parte, lo metto anche alla fine, come avevo pensato, anche nel prossimo crossover Crisi sulle terre infinite ci sarà questo muro di antimateria, così come c'è stato nel fumetto, nel mega crossover dell'85. Quindi vedendo questo grosso muro di antimateria, Flash vuole consultare qualcuno e consulta Jay Garrick di Terra 3. Grande ritorno di John Wesley Sheep nei panni di Jay Garrick, che finalmente vediamo in una veste diversa dal solito Jay Garrick. Cioè non lo vediamo nella veste del Flash di Terra 3, ma lo vediamo proprio come Jay Garrick. Scopriamo che anche Jay Garrick è uno scienziato, cosa che almeno se l'han detta io probabilmente stavo dormendo. Scopriamo che Jay Garrick ha una fidanzata, non è ancora sua moglie, una persona con cui sta uscendo, che manco a farlo apposta è la controparte di Terra 3 della madre di Barry Allen. Quindi inutile dire che Barry Allen quando vede la controparte di Terra 3 di suo padre e la controparte di Terra 3 di sua madre frequentarsi, gli viene un attimino un po' di commozione, un po' di quella roba lì, no? E quindi è stato molto bello, è stato anche molto bello sfruttare diciamo l'attrice per questo ruolo. Avrei anche apprezzato se ci fosse stata l'attrice che ha interpretato Tina, l'amica di Flash della serie degli anni 90, come moglie di Jay Garrick di Terra 3. Però va benissimo anche così. È bello vedere Jay Garrick in questa veste, diciamo più, meno supereroistica e più da persona dietro la maschera. E già si evince che anche nel telefilm, così come è stato nel fumetto, la scomparsa di Flash nella crisi non sarà una semplice scomparsa, ma sarà la vera e propria morte di Flash, il vero sacrificio che Flash dovrà fare per salvare tutto il multiverso. Infatti, tra l'altro, non mi è piaciuta una citazione neanche troppo velata a Avengers Endgame, perché Barry Allen dice proprio Quando sono andato da Jay Garrick mi ha aiutato a vedere, con la mente, senza andare nel futuro fisicamente, mi ha aiutato a vedere molteplici futuri. E questo mi ha ricordato palesemente il Doctor Strange, che in Avengers Infinity War vede 14 milioni di diverse possibilità future e solo in una di queste realtà loro vincono contro Thanos. Flash dice la stessa cosa, dice Quando ero con Jay Garrick ho viaggiato nel futuro con la mente e ho visto milioni di futuri possibili e alternativi e l'unico futuro dove il multiverso non viene spazzato via dal muro di antimateria è quello dove io mi sacrifico. Ecco, lì io proprio ho sentito proprio il plagio a Endgame e non mi è piaciuto neanche un po', anche perché non c'è bisogno di citare altre fonti, comunque c'è tanta ciccia anche nel materiale originale, ma vabbè. Se non altro avrei preferito se avesse detto Ho visto che anche nelle altre terre succede la stessa cosa, che non succede solo in Terra 1 e questo avrebbe spiegato appunto come sarà coinvolto il multiverso invece di dire questa cosa dei possibili futuri. Ma chi cazzo se ne frega? Vabbè, questa è una cosa mia, ok, però a parte questo parliamo invece delle puntate singole. Nelle puntate singole ci viene introdotto Godspeed che sembrava essere il villain della sesta stagione, il main villain della sesta stagione, invece ci sono tanti emulatori di questo Godspeed, questo velocista vestito di bianco, che vengono catturati da Flash, da Barry Allen, e quando vengono catturati da Flash, quando parlano emettono un suono strano, che sembra una specie di codice morse, sembra un linguaggio alieno, però tutto lì. La cosa finisce subito, non ci dicono altro, quindi magari verrà sviluppata più avanti o verrà sviluppata nel crossover, non si sa, mentre il main villain della sesta stagione di Flash è Bloodwork, che è questo ricercatore di cellule del sangue che ha una malattia, nel fumetto era l'emofilia, nel telefilm, dato che comunque sono passati diversi anni e hanno voluto mettere una malattia ben più grave, ha una forma di cancro al sangue. Questa forma di cancro al sangue lui la sta già studiando da molti anni perché ne era affetta la madre, che l'ha uccisa, questo cancro ha ucciso la madre del villain, e il villain appunto sta cercando una cura non tanto per guarire sua madre, che appunto è venuta a mancare, o per guarire tutto il resto del mondo che ha la stessa malattia, ma per guarire anche se stesso, perché lui è affetto dalla stessa medesima malattia. Il protagonista si chiama Ramsey Rosso, come sempre alla DC Comics hanno una gran fantasia per i nomi, quindi dato che questo lavora col sangue l'hanno chiamato Rosso di cognome, ma vabbè, Rosso in italiano, è proprio Ramsey Rosso, ma vabbè. E svilupperà una sorta di controllo del sangue, controllo del proprio sangue, controllo anche del sangue altrui. Se voi andate a cercare, anzi magari ve lo metto qua, se voi andate a cercare Bloodwork nei fumetti, sembra quasi Carnage, il Carnage della Marvel, dove è appunto quella sostanza che lo avvolge viscida rossa, e in questo caso è proprio il sangue, non è un simbionte alieno. Vediamo svilupparsi l'interazione anche di questo nemico con il team Flash nelle prime tre puntate ci fa subito capire come sia una persona suddola, quindi Flash lo inquadra abbastanza, ma comunque non si rende conto di quello che già c'è sotto, quindi del fatto che Ramsey Rosso già inizia a saper controllare queste cellule sanguigne modificate con la materia oscura. Ci sono molte side stories, c'è una storia secondaria, c'è anche una storia terziaria a volte, in una puntata vediamo la nuova compagna di Joe West che cerca di scagionare una meta umana che è stata accusata ingiustamente, c'è in un'altra puntata vediamo la madre di Ralph Dibney, vediamo Sisko Ramon e Iris West che cercano appunto un ennesimo Harrison Wells che pare essere apparso su Terra 1 e vogliono capire perché, e per carità tengono un pochino tutti occupati, ci fanno vedere, ci danno un attimino un'infarinatura di questa stagione, stanno mettendo le basi, ovviamente il team Flash nel giro delle prime tre puntate viene a scoprire questa cosa del muro di antimateria e del fatto che Flash dovrà sacrificarsi. Però chissà che non ci sarà un risvolto diverso, perché noi tutti ben sappiamo che è Arrow a essere alla sua ultima stagione e molto probabilmente che l'attore, scusate, il personaggio di Oliver Queen molto probabilmente si sacrificherà nella crisi. Di conseguenza può essere che Flash tenti di sacrificarsi ma all'ultimo magari sarà Arrow a salvare Flash e morire lui stesso. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivetemi nei commenti anche una cosa che sono molto curioso escludendo la sesta stagione che è appena iniziata qual è la vostra stagione preferita e la vostra stagione che avete apprezzato di meno di questa serie di Flash e perché? Io vi dico già che così a mente fredda la mia stagione preferita se devo pensarci è la seconda stagione perché vediamo un Harrison West che appunto è il migliore secondo me perché non è un villain sotto mentite spoglie ma c'è comunque un villain sotto mentite spoglie c'è un'interessante strizzatina d'occhio a Jay Garrick c'è la comparsa di Jay Garrick non abbiamo ancora tutti i comprimari metà umani come Killer Frost forse Vibe inizia vagamente a spuntare nella seconda stagione quindi non è ancora così pieno di metà umani però comunque è una stagione fatta molto bene c'è l'introduzione di di Wally West senza che sia già Kid Flash però ci introducono il personaggio quindi credo che quella sia la mia stagione preferita mi è piaciuta molto anche la quarta per un motivo trasversalmente opposto cioè perché ci sono molti metà umani molti protagonisti metà umani come storia però ho preferito la seconda non mi è piaciuta la terza non mi è piaciuto scoprire l'identità del cattivo Savitar non è una cosa che a me piace quando il cattivo e il protagonista sono la stessa persona la quinta non mi è piaciuta proprio perché purtroppo era tutto troppo incentrato attorno a Nora West Allen e nonostante abbiano ritirato in ballo l'antiflash che è un personaggio che io apprezzo sempre non sono riuscito a farmi piacere la quinta stagione ho davvero faticato per finirla vedremo cosa ci porterà la sesta stagione con questo è tutto io sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video Grazie